Ciao a tutti, bentornati sul canale, ne approfitto di questo video perché voglio tornare a parlarvi di nanotecnologia ma lo farò in maniera un po' diciamo particolare, nel senso che voglio darvi qualche spiegazione in più che probabilmente ho già dato anche nei video durante le fasi di stesura dei nanotecnologici ma visto che oggi è venerdì ho ultimato i lavori, ho un attimo di tempo, stavo riflettendo un po' su alcune cose e volevo appunto parlarvene, per farlo vi voglio far vedere un po' di cose, sigla e poi iniziamo come vi ho accennato nell'introduzione, devo spiegarvi alcune cose il primo punto è che la nanotecnologia sul settore automotive, perché in questo caso visto che il canale è dedicato soprattutto al car detaining e alla nanotecnologia applicata sulle auto parleremo solo di questo tipo di nanotecnologia, cioè del ramo del settore automotive non del settore nautico, non del settore edilizio vi ricordo che io comunque applico nanotecnologia anche per quei due settori ma in questo caso parliamo di quello che è la nanotecnologia applicata all'automotive prima di tutto, quando un cliente arriva in un centro di detailing la prima cosa che magari chiede, e ho sentito parlare di un protettivo non ha le idee molto chiare su che cosa sia davvero la nanotecnologia a volte l'ha sentito dire da qualcuno, a volte ha guardato un po' i vari video su internet ma anche lì c'è molta confusione, ha letto qualcosa oppure ne ha sentito vagamente parlare ed è qui che interviene il vero professionista che sa applicare nanotecnologia perché non tutti sono in grado purtroppo di farlo esistono due rami di nanotecnologia sul settore automotivo il bello della pseudo diretta, ho dovuto interrompere perché è entrato un cliente a ritirare una macchina quindi non taglierò questa parte stavo dicendo che esistono due rami della nanotecnologia automotiva ovvero quella dedicata al privato e quella per i professionisti quella dedicata al privato è un nanotecnologico che si può acquistare sui siti online dedicati al mondo del car detailing e l'applicazione risulta essere molto più semplice ma allo stesso tempo il prodotto, chiamiamolo così, primario ovvero il nanotecnologico in sé insieme a tutti gli altri composti è blando, vuol dire che ha una durata piuttosto breve non ha tutte le caratteristiche che ha quello professionale e soprattutto può essere applicato anche in condizioni non ottimali quando magari l'auto non è stata preparata in maniera perfetta quando non si è in un clima climatizzato con temperatura di umidità controllata eccetera eccetera e quello è uno ma quando si parla di vera nanotecnologia ovvero quella che è fatta nei centri di detailing si parla dell'altro settore, quello della linea professionale quella che è possibile comprare solo previo corsi di certificazione e l'ho già detto più volte questi corsi di certificazione non sono solo per vendere il prodotto ma servono all'azienda per tutelarsi per tutelare perché il nome stesso altrimenti verrebbe compromesso quindi quel tipo di nanotecnologico viene dato esclusivamente a professionisti con partita IVA ma che abbiano anche effettuato dei corsi di certificazione perché non tutti i nanotecnologici si applicano allo stesso modo e non tutti i nanotecnologici sono uguali e questo è quello di cui parleremo il punto fondamentale intanto è capire che cos'è la nanotecnologia a cosa serve, come viene applicata, quali sono le fasi di manutenzione e quando deve essere venduta il cliente e come perché il cliente quando arriva ha un suo storico cioè la macchina ha una sua vita se un cliente arriva e dice guarda io la macchina la tengo un anno, la uso solo a fine settimana è ovvio che applicherò un determinato nanotecnologico se la macchina, un cliente arriva e la uso tutti i giorni faccio un sacco di chilometri, faccio tanta autostrada in quel caso si consiglia al cliente un altro tipo di nanotecnologico e questo perché non sono tutti uguali partendo da questo vi faccio vedere qualcosina voi sapete che io ho le certificazioni effetto corsi di certificazione su due nanotecnologici principalmente White Diamond e Tevo Creation sono due, uno è del Belgio e uno è della Malesia ma detto questo partiamo da Malesia per tanti anni e tuttora ancora applico della linea Nanobiotech che è un'azienda italiana qui abbiamo un nanotecnologico a base di silicio che è questo qua, un Paint Protect che dura 48 mesi 48 mesi perché il contenuto al suo interno è stato progettato per fare quella durata quindi non andiamo oltre oppure abbiamo quello più performante cioè il Paint Protect Premium abbinato magari ad un Basic questi due abbinati insieme cioè prima questo e poi questo arriviamo a 60 mesi di durata con un'alta concentrazione di silicio e anche questo è a base di CO2 e questo è un tipo di nanotecnologia poi abbiamo la linea invece della Tevo la linea quella Tevo classica o meglio 36 mesi e 60 mesi il 36 mesi a base acqua il 60 mesi a base solvente che è questa questa qua e questo non è a base di silicio ma è a base quarzo questo è un esempio di 60 mesi base solvente al quarzo poi abbiamo sempre a base silicio questo coating più shine che sono i due nanotecnologici della linea White Diamond quella linea classica chiamiamola così sempre a livello professionale questi prodotti vanno abbinati insieme vanno applicati insieme poi abbiamo la linea all'ossido di grafene questa qui è quella nuova è una nuova formulazione e questa è la formulazione che abbiamo utilizzato che stiamo ancora utilizzando ma questa sarà quella di prossima generazione ok in questo siamo a base però di ossido di grafene quindi ancora più performante poi abbiamo la nanotecnologia specifica per metalli che va applicata sui cerchi o sui metalli abbiamo la nanotecnologia specifica per vetri perché le nanoparticelle in questo caso sono progettate in maniera diversa da quella della carrozzeria cioè si può applicare anche quella ma esiste un nanotecnologico specifico per i vetri come esiste un nanotecnologico specifico per le plastiche non è detto che gli altri non possono essere applicati ma la particella che è di progettazione è stata studiata per un'applicazione specifica quindi avrà una durata maggiore e soprattutto resisterà ai raggi UV in maniera diversa poi abbiamo il 2+, ad esempio in questo caso della linea Tevo ovvero la nuova generazione di nanotecnologia che è questa che è i nanotubi di grafene che si chiama Curo e è l'unico nanotecnologico al momento esistente con una proprietà di durezza 10H che è il massimo grado raggiungibile cioè il diamante la durezza del diamante altrimenti gli altri fanno 6H o 9H non esiste il 12H come ho visto in giro poi esiste Shiro che è questo che è una nanotecnologia che si applica su pellicole PPF e su wrapping solo su quello non si può applicare sul resto perché altrimenti non funziona esiste anche il nanotecnologico in versione matte ovvero per vernici opache detto questo perché esistono tutte queste nanotecnologie diverse perché bisogna conoscere alla perfezione e sapere quando vanno applicate perché tutta la fase di preparazione dell'auto è fondamentale e anche la fase di stesura la fase di stesura se è applicata male poi ci saranno dei problemi quindi conoscere a me la dito la nanotecnologia è fondamentale e lo è attraverso i corsi di certificazione cioè l'azienda venderebbe molto di più senza fare i corsi arriva uno chiama eh ho visto che applico quel nanotecnologico lo posso comprare sì certo lo vendi io che sono concessionario guadagnerei dei soldi l'azienda casa madre guadagnerebbe dei soldi ma fino a quando perché se poi il prodotto applicato male o questa persona che lo compra comincia a farlo ad amici e parenti intanto lo venderà a un prezzo stracciato e già quello non va bene secondo lo applicherà male la nanotecnologia non funzionerà l'utente finale dirà che la nanotecnologia non funziona e quindi l'azienda madre Tevo White Diamond ci rimetterebbero in tutto e per tutto perché poi si fa conto di quello che è il marchio dell'azienda se invece tu insegni a una persona ad applicare la nanotecnologia in maniera perfetta in quel caso lì l'applicatore quindi ci saranno due certificazioni applicatore e centro autorizzato dell'applicazione di quel marchio ovviamente allora lì sì perché poi tu dovrai rispondere a tutto quello che farai sulla nanotecnologia sull'auto del cliente ma sarai preparato ad affrontare tutte le situazioni del prima quindi di preparazione auto dell'applicazione del come vendere nanotecnologico al cliente se va bene fare un 36 mesi un 48 mesi un 60 mesi se conviene applicare quello a base silicio quello a base quarzo quello a base ossido di graffine o quello a nanotubi di graffine perché le auto non sono tutte uguali cioè un nero pastello per esempio di un Porsche Macan che è delicatissimo o di una Tesla non ha lo stesso risultato di applicazione non so su una Mercedes bianco perlato ecco fra due esempi opposti e quindi la nanotecnologia lì va vista quale applicare la stessa cosa va se se tu usi una macchina solo nel fine settimana la ce l'hai sempre in garage o sulla usi tutti i giorni anche in quel caso la nanotecnologia va studiata e capire quale applicare oppure magari non applicarla e applicare la PPF cioè lì bisogna valutare tutte queste cose ed è fondamentale è fondamentale per essere dei professionisti io poi sono lo sapete che sono uno stimatore della nanotecnologia mi piace è la mia passione più grande e credo senza vantarmi di essere bravo ad applicarla e di conoscerla anche se non ho mai finito di imparare perché c'è sempre da imparare l'evoluzione per fortuna va avanti come è successo con quelli a base di grafene quindi ossido di grafene e nanotubi di grafene io ho scelto poi due marchi li ho scelti perché testandoli tre in questo caso perché ho anche nanobioteche che applico comunque da anni perché li ho scelti ne ho provati tanti di nanotecnologia perché alla fine una scelta la devi fare stando sempre ad alto livello ho scelto di affidarmi a queste due aziende dopo vari test vari prov mi sono trovato bene e ho preso questa decisione poi con Tevo l'ho fatto anche perché è l'unica azienda al mondo che ha i nanotubi di grafene quindi volevo andare ancora alzare ancora l'asticella su certe auto per quello che mi vedete applicare nanobiotech su alcune mi vedete applicare white diamond su altre mi vedete applicare Tevo su altre ed è per quello che faccio i corsi di certificazione solo ai professionisti perché ho rinunciato a persone che mi hanno telefonato volevano applicare venire a fare il corso gli ho detto di no io ho perso i soldi ma io non voglio perdere la faccia e non voglio far perdere la faccia alle aziende che mi hanno dato fiducia fidandomi il loro marchio quindi per me la nanotecnologia va fatta solo ed esclusivamente dai professionisti in quel caso che vi ho fatto vedere nelle linee privata che vi ho detto prima va bene ma lì sappiamo anche che le durate sono inferiori ci sono delle cose anche per esempio questo del vetro sì questo qua può essere venduto anche a un privato perché è molto diverso che applicarlo su tutta la macchina lo stesso quello a base delle plastiche lì ci sono delle procedure molto più semplici la stessa cosa vale per cui le nanotecnologie che vi ho detto prima tutto il resto deve essere fatto ripeto dal professionista non voglio dilungarmi oltre magari farò un altro video di approfondimento sul silicio sull'ossido di grafene sul quarzo sui nanotubi di grafene ancora per entrare ancora più nello specifico è che mi piacerebbe farvi capire di stare alla larga da quello che è il mondo poco chiaro che c'è su internet sulla nanotecnologia siccome io non ho sposato nessuno sì tra virgolette ho sposato questa azienda ma io ho la fortuna di poter parlare liberamente lo faccio in maniera corretta non è che mi invento le cose le cose che dico si possono anche verificare quindi ho voluto fare questo video per darvi un po' di spiegazioni in più su quello che è diciamo il mondo delle nanotecnologie ancora più nello specifico in più la settimana fra qualche settimana avremo degli altri video su dei macan dove applicheremo la nanotecnologia avremo modo anche di parlarne magari approfondiremo il discorso di preparazione io vi saluto spero che questo video vi possa essere utile vi ricordo per ultimo apro e chiudo una parentesi se vi va di acquistare il mio libro l'arte del cartetelling lo trovate su Amazon sia in versione cartacea che in versione ebook sta andando piuttosto bene era anche il nostro intento questo progetto far conoscere il mondo del detailing ai neofiti perché non è un libro propriamente tecnico quindi se vi interessa lo potete trovare lì io vi ringrazio vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video e buon fine settimana a tutti